Quel lavoro lo fa benissimo, raddoppia internamente, gli dà una mano il compagno Farmerud. Bertolacci, ancora Bertolacci al limite, va al tiro! Che magia di Bertolacci! A tre e mezzo dalla fine, forse chiude. Per Niang, forse fate mandare con la sponda a Iago Falke. La palla la prende ancora Bertolacci che sta dominando in mezzo al campo. Bertolacci a testa alta, vuole il dribbling, lo trova Bertolacci. Bertolacci! Un gol da fenomeno di Bertolacci! Farmerud. Fa tutto da solo e fa tutto benissimo! Warner l'ha battuto, Perotti in area di rigolo e colpa di testa di Bertolacci! E questa volta il gol al trentottesimo minuto! Il Genoa passa con il terzo gol in campionato di Andrea... Poi adesso ha pagato un pochino magari forse anche l'esordio, la mancanza anche di ritmo della partita e quindi è stato il quinto. Però, come direi, è una prestazione positiva. Daxidis, Laksalt, schierato centrale, in centrocampo va a conquistare subito il pallone l'uruguaiano. Mette dentro per Bertolacci! 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 Al ventesimo del secondo tempo in Genoa è di nuovo avanti di due... Ritmi altissimi in questa fase. Ancora Bertolacci. Greco, riceve e spara la porta, prova a girarsi, ci riesce. Greco carica il sinistro, viene fermato, non c'è fallo. Riapra Antonelli per Ferotti. Uno contro uno con Morganella. Ferotti il dribbling. In mezzo Greco, allontana Andelkovic. Se sbaglio, maresca, Bertolacci! Il pareggio del Genoa, fermato, firmato, Bertolacci! Avevamo detto che doveva tirare. Ricomincia allora da Perin. E De Nilsson. Lo scambio con Perotti. Di buona fattura, ancora De Nilsson. Salta bene il suo avversario. Brasiliano cerca davanti Matri. Buono, la gancia da parte di Matri. Arriva Bertolacci! E segna un gol bellissimo Bertolacci. Al quattordicesimo. Genoa a partaggio. Finuto di recupero. Si viene anticipato da perdonamento. Però ne lo ha l'ampi. Tanto Conatè scambia con Biondini. Zona cross per Conatè. Bella palla. Sul secondo palo, Bertolacci! Al rimorchio per il 2-0 Genoa. Proprio in chiusura di tempo. Cerca e trova Sturaro. Calaio. Marchese. Il cross a cercare Gilardino. La controlla. Gilardino vuole girarsi. Bertolacci! E il Genoa passa in vantaggio. Con il gol di Andrea Bertolacci. Ancora lui. Signa la talappa. Sulla linea. Bravo Siani. Un po' rischioso. Le tocca lì indietro. Marchetti rinvia. Moretti prima di Gonzales. Con comete giù. Mauri attaccato da Matusalem. Con Furbizia. Matusalemi straffa il pallone. Kozka. Ancora un filtrante. Bertolacci tra le linee. Fatta centralmente. Bertolacci con sinistro. Bertolacci! Un gol straordinario al 22esimo. E 2 a 0 Genoa. Bertolacci! Fora rinconne. Bertolacci con l'esterno per Pavoletti. Prova a girarsi. Bentardo gli dice di no. Possesso ancora per il Genoa. Ed è il sole. Bertolacci al limite. Prova a passare. Bertolacci! Un gol spettacolare! Tutti in piedi ad applaudire. Andrea Bertolacci. 12 solo il cronometro della ripresa. Genoa va!